Stoppa le mascherine al chiuso, è quanto dichiarato dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, affermando che ormai sono presenti le condizioni per rimuovere le ultime misure restrittive ancora in vigore. L'obbligo verrà quindi abolito il 15 giugno, con la speranza continua a costa che in autunno sia disponibile un vaccino aggiornato anche sulle varianti, e afferma che la ricerca sta continuando a lavorare per creare una nuova strumentazione su terapie e vaccini. È una corsa a rialzo senza fine a quella dei prezzi dei carburanti. A dichiararlo è la stima di Quotidiano Energia, che vede il prezzo della benzina in modalità self superare la temuta soglia dei 2 euro. Secondo i dati aggiornati a mercoledì 8 giugno, la benzina in self arriva a 2,009 euro al litro, quando il valore precedente era a 1,985 euro al litro, mentre per il servito il prezzo medio praticato è aumentato vertiginosamente a 2,134 euro al litro, con un prezzo precedente di 2,118 euro al litro. Quanto riguarda il diesel, invece, il prezzo medio in modalità self si porta a 1,924 euro al litro, mentre per il servito la media è di 2,055 euro al litro, con prezzi medi praticati nelle varie stazioni di servizio che oscillano tra i 2,010 e i 2,135 euro al litro. Secondo i più recenti dati istati, i consumi delle famiglie italiane nel 2021 sono in ripresa del più virgola 4,7% rispetto al 2020. La spesa media delle famiglie nel 2021, infatti, è di 2,437 euro al mese, precisa l'Istituto Nazionale di Statistica, anche se il dato non compensa il crollo del 2020. Rispetto al 2019, infatti, la variazione in valori correnti è ancora in negativo, almeno 4,8%. In particolare, l'aumento più elevato si osserva nella spesa dei servizi ricettivi, come campeggi, alberghi e case vacanze, e della ristorazione, al più 26,5%, che nel 2020, a causa dello scoppio della pandemia, aveva subito un vero e proprio crollo del meno 38,9%. Le istituzioni dell'Unione Europea hanno trovato un accordo sulla proposta di legge per introdurre sul mercato un'unica tipologia di caricatore per tutti i device mobili. Indipendentemente dalla casa di produzioni, infatti, tutti i dispositivi mobili dell'Unione Europea avranno in dotazione il cavo di ricarica con porta di tipo OSBC, già in uso in molti telefoni con sistema Android. La nuova norma riguarderà da vicino device come telefoni cellulari, tablet, i reader, fotocamere digitali, console per videogiochi, altoparlanti portatili, cuffie auricolari. Ancora scoperti restano invece i computer portatili. Il Parlamento Europeo ha annunciato, dopo molti anni di attesa, che la norma per adottare questa soluzione universale e comune a tutti i caricatori entrerà in vigore entro l'autunno del 2024. Grazie a tutti.